Mr. Allegri cosa ne pensi della partita contro il Milan? No, no, se tu sei un'applietta al Milan, se sei un'applietta a Pioli... Ah, bene, oh. Mr. le chiedo come approccerà la partita a livello tattico? Ah, tattica, schieriamo niente lo assisto. Ah, no, se ci si passa bene la palla, si può fare bene. Oh, bisogna passarci bene la palla. Soprattutto... Voglio, eh, mi sa... mi sa da la Decio, eh. Che voglio, se vado a Decio, eh, che fai, oh. Mr. in caso di vittoria contro il Milan, che cosa farei? Ah, voglio, eh. Se si riesce la partita, voi sapete, io c'ho la cosa del cazzeggio creativo. Eh, oh, e che so di riguardo, amici miei, oh, ci si diverte. Ah, si va a tutti quei calciatori, voglio, eh, a tutti a casa di Decio io. Eh, si festeggia con lui se si vince, voglio. Eh, voglio, e voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, voglio, eh. E seguitemi su Instagram, voglio, eh, oh. per lì, per lì. Grazie a tutti.